è venuto il governo, ma Pierluigi Bersani, come sta succedendo questo? È una cosa grave, 25 anni, era ministro la Elisa, è vero? Eh sì. Ma, allora, questa inflazione qui è evidente che ha anche una parte, io credo non rilevantissima, che deriva dal fatto che nella ripresa post-Covid in tutto il mondo, diciamo, la domanda corre più dell'offerta. L'offerta per riprendere deve riattrezzarsi. Cioè la gente vuole, vuole, vuole. Eh sì, adesso ricomincia, si ricomincia a spendere e chi si era trattenuto nella produzione deve rimettersi in moto. Però questo viene detto, io ci credo fin lì, io vedo che sotto sotto il tema rilevante è l'energia. Questo è il tema, che è pervasiva, arriva attraverso la benzina, arriva gli alimentari, arriva tutto. E questo andamento dell'energia, io credo che abbia anche una causa che non viene, secondo me, abbastanza valutata, né a livello europeo né a livello nazionale. E cioè, noi stiamo dicendoci, giustamente, che vogliamo fare la transizione energetica. Sacrosanta, necessaria, urgente. Ci siamo forse però dimenticati che a quel tavolo bisogna metterci un attimo anche i fornitori. perché noi abbiamo dei paesi che campano per metà del loro PIL sulla vendita di gas o di petrolio. Difficilmente vorranno andare alla fame. Quindi aspettarsi qualche azione difensiva o, diciamo, ammonitrice è una cosa... Non capisco, cioè, la Russia vende il gas. Va bene, noi dalla Russia prendiamo il 40% del nostro fabbisogno, no? Malcontati, 39 miliardi di metà. E ci viene a costare tanto perché... Benissimo, noi avevamo, come aveva l'Europa, questi contratti di lungo, si chiamano tech or pay, cioè, o prendi o paghi comunque. Ok. Prezzo prefissato, certezza di prospettiva per chi te lo vende, fa gli investimenti. Quindi, a lato di questo, ne prendevamo dell'altro, secondo i picchi, i bisogni, e ce lo facevamo pagare quello stesso prezzo. Adesso, non è che la Russia venga meno ai contratti. Il contratto lo rispetta, ma non te ne dà fuori dal contratto. Quindi si crea una rarefazione, si crea la non intenzione di investire, perché uno dice, scusa un attimo, ma io adesso devi investire in scavazioni, tubature, estrazioni, eccetera, quando so che mi stai dicendo che da qui a 15 anni non me lo prendi più? Cioè, io vorrei far notare, adesso non venga fuori qualche perla che dice che sono filo Putin, eh? No. Però sto dicendo, al di là della politica, che un buon mercante quando cambia la prospettiva deve parlare col suo fornitore, deve parlargli e dirgli che cos'altro si può fare, non si può fare, in modo da tenere il prezzo un po' badato. Le piace quest'analisi e da qui...